Buona serata qua dall'Apenino Pavese, come puoi vedere nevica, sono a 4.300 erotti metri qua in corrispondenza di Pien de l'Armà che è la strada che conduce in direzione del monte Lesima. Questa è la situazione attuale come puoi vedere neve 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 sono venuti già una decina di centimetri. Queste sono delle casette nel bosco. Questa strada conduce al monte Lesima, famoso il monte di Annibale, qua sull'Apenino Sittentrionale. E qua invece puoi imboccare un sentierino che porta verso il bosco. Ecco qua, che bello. Vedi quella casa lì per esempio è abitata. Qua ti garantisco che non è assolutamente, ci sono anche delle case abbandonate come questa nel bosco, alcune diroccate. Ecco qua, guarda che bello, la magia del bosco con la neve. Tra 200 metri fai una inversione.